Arriva in Europa il vaccino contro la meningite B, la principale forma dell'infezione nel vecchio continente. Il gruppo farmaceutico svizzero Novartis ha ottenuto dalle autorità preposte dell'Unione Europea l'autorizzazione alla vendita nel vecchio continente di questo vaccino, già omologato per i neonati di due mesi. Ora gli stati membri esamineranno se inserire il prodotto nei programmi nazionali di vaccinazione.